E quindi parliamo adesso della polarizzazione delle molecole. Dalla forma delle molecole dipende la loro distribuzione delle cariche elettriche. Se queste sono distribuite in modo omogenee, la molecola non ha zone prevalentemente positive o negative, che appunto si chiamano poli. Se invece li ha, si dice polarizzata. Questa polarizzazione influenza le proprietà fisiche e chimiche della molecola stessa, e quindi anche della sostanza che va a comporre. Riprendiamo il concetto dell'acqua. L'acqua ha un grosso ossigeno molto elettronegativo e due idrogeni. Abbiamo visto nel laboratorio virtuale che l'ossigeno ha due orbitali completi nell'ultimo guscio, che comunque danno fastidio a due idrogeni, e li spingono a formare questo angolo di 104.45 gradi. Questa conformazione dona all'acqua delle caratteristiche. Ad esempio, quando l'acqua congela, è costretta a prendere questa conformazione. La parte dell'ossigeno deve stare vicina alla parte dell'idrogeno di un'altra molecola. Due ossigeni vicini non possono stare, e ovviamente la parte dell'idrogeno di una molecola deve stare vicino a un ossigeno della molecola successiva. Queste attrazioni tra l'idrogeno di una molecola e l'ossigeno dell'altra, cioè praticamente tra il polo negativo della molecola e uno dei due poli positivi dell'altra molecola, crea un legame debole, però comunque sia abbastanza rilevante, che si chiama legami a idrogeno. Questi legami a idrogeno sono la causa della tensione superficiale dell'acqua, della capacità dell'acqua di evaporare ad alte temperature, cioè devo portarla a 100 gradi per farla evaporare, e quindi l'energia di legame è molto alta, e della capacità dell'acqua di accumulare molto calore, quindi energia termica. Calcolate che l'acqua assorbe una grande quantità di calore, e questo lo vediamo proprio nell'influenza climatica che ha il vapore acqueo nell'atmosfera e gli oceani sulla superficie terrestre. Ovviamente come detto prima è anche la conseguenza del fatto che l'acqua quando congela aumenta di volume, quindi il ghiaccio galleggia, e poi ancora questa polarizzazione dell'acqua permette all'acqua di sciogliere i sali ionici. Ho già detto che i sali ionici sono composti di ioni attaccati per carica elettrostatica perché hanno carica opposta, l'acqua può smontare letteralmente questi legami ionici perché i suoi poli possono isolare i singoli ioni. Quindi un ione positivo come il sodio può essere circondato da una pellicola di molecole d'acqua che hanno tutti quanti il verso dell'ossigeno verso l'ione positivo, e quindi ovviamente impediscono a questo ione di legarsi con un altro ione negativo, formando così il sale ionico. Per questo i sali nell'acqua si sciolgono, e quindi per questo motivo il mare è salato, perché l'acqua piovana scorre sui continenti sotto forma di fiumi, e questi scorrendo sulle rocce scioglono proprio i sali delle rocce. E quindi ovviamente leggiamo, la molecola dell'acqua ha una forte polarizzazione, questa le dona proprietà fisiche e chimiche importanti anche per la vita, perché proprio questa caratteristica dona all'acqua la capacità di essere un ottimo solvente, e quindi gli oceani sono stati un ottimo brodo primordiale perché scioglievano tante sostanze chimiche che poi sono state utili per la formazione delle molecole organiche, quindi della vita stessa. Ancora, vediamo invece una molecola che è più pesante dell'acqua, ad esempio il carbonio e due ossigeni, che però a temperatura ambiente è un gas, quindi evapora a basse temperature. Perché questo? Perché non avendo polarizzazione non ha le stesse caratteristiche chimiche e fisiche che l'acqua, quindi non c'è attrazione tra le varie molecole, l'energia di legame che forma quattro molecole è molto bassa, e per liquefare l'anide carbonica devo scendere a temperature più bassi di quello dello 0 gradi Celsius. Quindi, morale della favola, la conformazione simmetrica o non simmetrica delle molecole si riflettono sulla distribuzione elettronica degli elettroni di legame e quindi anche sulla capacità che ha la molecola di avere una polarizzazione esterna oppure no. Questo è solamente un estratto della mia lezione sui legami chimici. Nella lezione completa parlerò del rapporto che c'è tra l'energia di ionizzazione di un atomo e i legami che questo può fare con altri atomi. Parlerò del legame metallico, parlerò degli orbitali ibridi, specialmente quello del carbonio, vedremo le forze intramolecolari, come ad esempio il legame idrogeno, ma non solo, e poi, quando parlerò di legami multipli, vedremo la differenza che c'è tra i legami sigma e i legami pi greco. Potete trovare tutto il mio corso della chimica facile e in particolare anche questa lezione, la numero 4 sui legami chimici e le molecole, sul mio canale YouTube e sulle mie pagine Instagram e Facebook Prof. Antonio Loiacono. Grazie.